È l'ingresso in chiesa più bello che abbia mai visto. Dio benedica entrambi gli sposi. Spero che mio marito sia pronto per una cosa simile a questa. Mio Dio, ti prego, fammi conoscere un bell'uomo di colore che reagisca così. Di certo Gabriel non se ne rendeva conto, ma quella reazione che tentava di soffocare lo ha reso desiderato da migliaia di donne nel mondo. Tutte vorrebbero essere al posto di sua moglie, Annabella. I due si sono sposati a Londra, affidando le riprese ad un'agenzia che promette di trasformare il giorno più bello della tua vita in una sorta di film. E che non si è fatta sfuggire la ghiotta occasione di collezionare milioni di visualizzazioni grazie alla reazione di Gabriel. Quando lei è entrata in chiesa, racconta Gabriel, ho realizzato tutto a un tratto quanto fosse prezioso ciò che avevo. Era talmente bella che non sono riuscito a trattenere le lacrime. La sua commozione si è trasformata in quella dei 300 invitati. Non mi aveva mai visto piangere così. E nemmeno io stesso mi ero mai visto in quel modo. Nonostante mi comporti spesso come un idiota, lei ha scelto ugualmente di rispettarmi. La risposta di Annabella non è da meno. Gabriel mi piace perché è un sognatore. Pensa sempre in grande e non si accontenta mai se non dell'eccellenza. Mi spinge ad essere sempre migliore. C'è ancora tanto spazio per crescere, per un maggiore sviluppo, per più amore. , Grazie a tutti.